3, 2, 1 Bruce, il signore ti guarda Devi pensare a quello che fai, non credi? Vuoi parlarne? Bruce, per favore, cosa c'è da fare chiusi lì dentro tutto il giorno? Bruce, per piacere, ti chiedo, per piacere, esci! Boh! Bruce, non si può neanche più pisciare in questa casa! Grazie a tutti